Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, alimentazione, fruttarismo, melarismo e un amico di cui troverete le notizie nel riassunto di questo video, un amico mi manda un singolare e interessante testo relativo a quella che dovrebbe essere la nostra alimentazione migliore che sarebbe il fruttarismo, cioè un'alimentazione a base di frutta. Se poi della frutta si mangia prevalentemente la mela, allora il fruttarismo diventa un melarismo. Vengono dati tutti gli aspetti scientifici sulla positività di un'alimentazione a base di frutta, anzi pressoché prevalentemente a base di mele. Ora questo testo, cari amici, che voi troverete nella sua interezza nel riassunto di questo video, ci spiega come sia necessario andare oltre il vegetarianesimo, oltre il veganismo e per venire al fruttarismo o melarismo. Io non so pronunciarmi, il testo è molto affascinante, potete tranquillamente leggerlo perché dà notizie sorprendenti, io non ho le competenze precise, però si dà il fatto che questo testo che voi potrete leggere perché vi troverete il link nel riassunto a questo video. Stranamente questo testo ripercorre, ha ritroso la storia dell'umanità e pervenendo ad una società ancestrale e materiale come quella da me descritta in questa opera storico-mitologica. Per cui si arriva alla conclusione che nella società antica prevalentemente fruttarista, fruttarista o melarista, in pratica era sconosciuta la figura del padre e non esisteva il padre. Io pure ho dimostrato che l'antica umanità non conosceva la figura del padre per il semplice motivo che non era stata ancora scoperta la funzione dello sperma. È interessante il testo che lascio alla vostra lettura e alla vostra valutazione, proprio perché, tornando a ritroso, gli autori di tale testo, tornando a ritroso dalla nostra attuale alimentazione onnivora alle precedenti alimentazioni sempre più vicine alla natura, sino alla primitiva alimentazione di tipo fruttarista o melarista, tornando a ritroso arrivano a descrivere quella che doveva essere la società primitiva di tipo matriarcale, dove, guarda caso, non c'era la figura del padre. Ecco, cari amici, io qua mi fermo, lascio questo mio video alle vostre valutazioni, soprattutto il testo che troverete in link nel riassunto a questo video. Grazie cari amici se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.